A Roseto degli Abruzzi, dopo le numerose critiche arrivate negli ultimi mesi da cittadini e operatori turistici in merito alle zone buie in ampi tratti del lungomare, il Comune ha annunciato che entro fine giugno verranno sostituiti 44 pali a rischio tra il lungomare nord e quello sud. Lavori di ripristino immediati che verranno fatti senza attendere gli interventi del project financing. L'iter per la giudicazione della gara è ottimato. Già da questa mattina vi siamo l'impressa di Silvestre e di Giulianova per attivarsi per la sostituzione di 44 pali per un importo totale di circa 27 mila euro. Io penso che già dalla prossima settimana i lavori possono iniziare e speriamo di completarli al più presto in modo per ridare al lungomare di Roseto un lustro. Nel frattempo la gara, quella per il project, si è organizzata la commissione, è stata nominata la commissione e quindi sta andando avanti in un modo spedito, in modo da risolvere la problematica invece di 54 chilometri quadrati su tutto il territorio. Le tempistiche? Le tempistiche? Io penso per il project all'incirca andiamo per dopo le strade, per la giudicazione, sperando che non ci siano degli intoppi strada facendo. Per i 44 pali, io penso che in un giro, il massimo di un paio di settimane, i pali vengono installati e saranno funzionanti. Grazie.